aggrava ancora di più la situazione, il coordinamento. Perché questo coordinamento? E non solo in una città. La polizia lo smentisce uno dei ministri tedeschi? Non credo che tutto improvvisamente al capodanno, alla fine dell'anno 2015 e all'inizio dell'anno 2016, improvvisamente si sveglino in più città tedesche improvvisamente a parte di questo tipo. Non credo a questa casualità improvvisa che tutti sono svegliati quella notte. E quale sarebbe il motivo di tutto questo, secondo lei? Ho paura che in questo caso noi dobbiamo stare attenti perché dobbiamo difendere cultura, valori che abbiamo conquistato negli anni con fatica, con battaglie e con diritti che sono arrivati anche di dignità che non possono essere massacrati da cultura, che hanno poco a che fare con noi.